I giapponesi descrivono solo con quattro lettere un sentimento di nostalgia molto forte. I chijitsu, san shu, che è tradotto letteralmente un giorno, tre autunno. Una parola che descrive una situazione emotiva come quando non si vede una persona per un giorno. Ci si sente come se la si stesse aspettando da tre anni. Future Music Ti ho aspettata per millenni in mezzo a queste galassie, solo per poterti guardare negli occhi e dire grazie. E ora che le nostre iridi si specchiano, direi di non muoverci finché le stelle non si spengono. Sono in tour, vedo lune magnifiche, ma che senso ha se non posso condividerle con te? Voglio farti ascoltare le onde su queste dune tonde. E non capisco che bisogno c'è di andare in bagno al lavoro del dottore, in posto al parco. Ci vorrà almeno mezz'ora, potrei morire, almeno avvisami, fammi capire. Anche se ho sempre avuto paura delle cose frivole, far la spesa alle bollette o convivere con te. Sembra valga la pena vivere, sembra valga la pena vivere. Un giorno, di autunni, millenni, minudi, ti aspetterò sempre. Ti aspetterò sempre. Ti aspetto da sempre. Ti aspetto da sempre. E credo di trovare te, tra le pagine di questo libro che non voglio scrivere. E aspetto di trovarti qui, che mi guardi mentre do il peggio di me. Che cosa serve per mancarsi se non odiarsi e poi abbracciarsi qui nel letto e poi andar via. Ho bisogno di spazi ma poi me ne petto e nel petto ti sento, mi manca sempre. Un giorno, di autunni, millenni, minudi, ti aspetterò sempre. Ti aspetterò sempre. Ti aspetto da sempre. Ti aspetto da sempre. Ti aspetto da sempre.